Dagli Optical è un'azienda di oftalmica leader sul territorio italiano e si dedica alla produzione e innovazione di prodotti oftalmici con i relativi trattamenti. Quest'anno al Mido presentiamo delle novità importanti, presentiamo innanzitutto due nuove lenti progressive, questa è un'anteprima a livello europeo che riescono a rappresentare la stessa geometria, la stessa mappatura anche con l'avanzare dell'età del consumatore finale, dell'utente finale. L'altra novità importante è che da oggi rendiamo l'ottico indipendente nel progettarsi, nel realizzarsi la sua lente progressiva per il consumatore finale che ha di fronte, per il paziente che ha di fronte, quindi nel vero senso della parola diventa lui un produttore. Essere al Mido è importante, essere presenti in questa fiera, in questo appuntamento annuale è importante perché comunque ci si torna a casa con un bagaglio ricco di novità, ricco di esperienza e non si torna mai a mani vuote a casa, confermo che la presenza al Mido è veramente importante.